Gledez98 mi scrive Inizi il video mangiando una fetta di limone Siccome io il limone a casa non ne ho aperto il frigorifero e mi stava implorando pietà Quindi ho deciso di prendere questa bella boccettina di succo di limone Mi è passato il mal di testa cazzo Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo Mad Oskar risponde 2 Risponderò velocemente a tutte le domande che mi avete fatto ultimamente E poi vi dirò una cosa importantissima riguardo alla mia assenza Prima domanda del giorno Armando Todino mi scrive Puoi iniziare dei giochi su Playstation e se non ti dà fastidio potresti dirmi perché sei andato a Monaco di Baviera Sei un grande Grazie Armando ti voglio bene tantissimo e tu lo sai Tu lo sai Innanzitutto i giochi da Playstation mi piacciono da matti A partire da Metal Gear Solid fino a Crash Bandicoot, Spiro the Dragon e tanti tanti altri ragazzi Quindi credo di iniziare la serie di Crash Bandicoot che ho iniziato tempo fa se non mi ricordo male ed è arrivato nella seconda isola più o meno Poi farò anche qualche gameplay su Metal Gear Solid e poi tantissimi altri giochi divertenti non ti preoccupare li farò Passiamo alla seconda domanda Sonics mi scrive Preferisci Playstation 4, Xbox One o PC? Beh carissimo Sonics Io ho la Playstation 4, l'Xbox One e anche il PC Ma per registrare dei gameplay su Playstation 4 e Xbox One Ci vuole un pozzo di tecnologia che io ovviamente Io sono all'altezza della tecnologia Però mi secco a collegare i cavi Fare quello, fare l'altro, lì, papapà, pupupuccio Quindi preferisco usare Fraps per registrare i gameplay nel computer, nel PC Usare il software della webcam Logitech per registrare la mia bellissima faccina E così almeno in due secondi già ho fatto un gameplay Il mio carissimo amico Roversi430 mi scrive Sei mai stato all'estero oppure sei stato in altre città italiane? Beh carissimo Roversi, io sono stato più che altro nelle cittadine siciliane Tra cui San Cono, Carrapipi, Mirabelle in Baccari, Aidone e tante altre città della Sicilia Gela, tantissime Fuori dalla Sicilia invece sono stato a Forlì A Pisa sono stato a San Marino Che tra l'altro è fighissima quel piccolo stato che c'è E parlando dell'estero sono vivo qui da tre anni e mezzo già a Monaco di Baviera E pian piano andrò a fare le vacanze in tutta Europa Passiamo alla prossima domanda Darkblade mi scrive Qual è il tuo film preferito? Beh carissimo Darkblade Il mio film preferito in assoluto è Avatar Film di James Cameron Protagonisti Sam Workington che interpreta il personaggio principale in un modo assurdo E in più la trama del film mi piace un caso in più di tutti i film che esistono in questo mondo Guarda Bellissimo film, se non te lo sei visto Vai a vedertelo Passiamo alla prossima domanda E' elevatissimo Beh oggi le risposte sono finite qui ragazzi Fatene tantissime altre in modo che io nel prossimo Madosca risponde Risponderò a tutti 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 voi Riguardo la mia assenza ragazzi volevo dire che da domani sabato 7 fino al 12 non usciranno video perché devo andare dalla mia famiglia in Sicilia Voglio andare in Sicilia e stare vicino la mia famiglia e lasciare perdere internet per almeno questi 5 giorni Senza connettermi, senza fare niente E quindi ragazzi mi dispiace se non escono video per i prossimi 5 giorni Ma in ogni caso dal 12 ritornerò più attivo di prima Quindi ragazzi arrivederci e mi raccomando iscrivetevi in tanti Condividete e commentate il video a bestia Fatemi tantissime domande Lasciate un mi piace qui e nella pagina di Facebook che trovate sotto nella descrizione Ci vediamo dal 12 in poi Bella a tutti Bella a tutti